Dicevo, su Lukaku sono state dette cose di una pesantezza notevole per un professionista, sono state dette cose pesanti non da noi, perché lascia stare, tu puoi anche non rispondere ai giornalisti, noi sappiamo delle cose, le riportiamo e tu puoi anche far finta di niente, ma sono state dette cose di una pesantezza inaudita da parte di tesserati, dirigenti dell'Inter, Marotta e Ausilio non è che sono andati molto leggeri contro Lukaku. Lautaro non è andato molto leggero contro Lukaku, voglio dire, ti ripeto, l'agenzia che ti rappresenta ti ha scaricato, che è una delle più importanti al mondo, se non la più importante dal punto di vista dell'immagine, ti ha scaricato, è stata finita e già si sapeva da giugno che ti aveva scaricato. Quindi voglio dire, se tu hai, se tu hai Zanetti, Zanetti che è uno che parla, parla pochissimo e in genere fa zero a zero in qualunque intervista, è andato giù anche lui abbastanza pesante, seppur con stile. Cioè voglio dire, è stata messa in dubbio la tua professionalità, ma soprattutto ti è stato dato dell'uomo DM da tesserati sportivi. Quindi voglio dire, se tu hai una verità che sostanzialmente ti assolve rispetto a tutte queste accuse, io non parlo dal punto di vista professionale, ti è stata tirata in ballo proprio la tua umanità, cioè il fatto che tu sei un traditore, quindi se tu hai questa grande verità, non c'è nessun motivo per cui tu dovresti aspettare il tempo debito. E quale sarebbe il tempo debito? Non c'è un tempo debito. Tu hai sempre parlato di un popolo, quello nero-azzurro, che per te valeva più di ogni altra cosa e che ti ha salvato la carriera che stava sprofondando al Manchester United. Questo popolo nero-azzurro, tra due settimane, ti aspetta con 50.000 fischietti per scaricarti addosso tutta la sua rabbia e tutto il suo disprezzo. Se tu hai una verità che potrebbe far loro cambiare idea in merito a quello che tu sei, non c'è nessun tempo debito, non c'è niente da aspettare se tu hai una verità che può cambiare le carte in tavola. Quale può essere questa grande verità che tu tiri fuori? Il fatto che non è vero che sei tu che hai tradito l'Inter, ma che è l'Inter che non aveva i soldi per comprarti e che quindi ha fatto tutta una scena per far finta, come hanno sostenuto per tutta l'estate, i complottisti. Cioè che in realtà l'Inter non ha mai avuto intenzione di comprarti e che ti ha scaricato addosso la responsabilità del naufragio della trattativa. Se tu dovessi dire questa cosa qui, questa cosa qui troverebbe terreno fertile in coloro che odiano a prescindere la società Inter, ma come te la spieghi tu la reazione di Lautaro Martinez che non vuole neanche sentirti nominare nelle interviste pubbliche? Un giocatore che pondera le parole, le pesa una dopo l'altra? Come mai il tuo migliore amico che ti ha invitato al matrimonio due settimane prima del suddetto tradimento non vuole sentire parlare di te? Non vuole che tu Ram imiti la vostra esultanza tanto che non ti vuole sentire più neanche nominare? Ma l'Inter poi quei soldi li ha spesi comunque? Se tu hai una tua verità che può cambiare l'opinione su di te, non credo che ci sia il miglior momento per tirarla fuori di adesso.